Ciao a tutti ragazzi, sono Candy e benvenuti in questo nuovissimo video di Phantom Forces Come potete ben vedere, ho giocato a questo gioco, beh, diciamo per un bel po' Soprattutto perché ho scoperto che posso selezionare anche lo sniper Me l'avete letto in molti nei commenti e vi ringrazio Quindi, visto che lo sniper è una delle mie armi preferite in tutti i videogiochi Diciamo che sono migliorato parecchio e adesso ve ne darò dimostrazione Questa è la prima volta che gioco questa mappa, ma nell'ultima partita ho fatto più di 30 uccisioni con soli 10 morti Quindi significa che sto veramente diventando bravo E soprattutto l'ultimo video ragazzi l'avete supportato veramente benissimo Avete lasciato tantissimi mi piace e vi ringrazio Ma adesso vi vorrei fare una domanda Secondo voi ne vale la pena comprarsi Rainbow Six? Perché se questo gioco è preso da Rainbow Six io mi sto divertendo veramente tantissimo Quindi immaginate il gioco in sé, il gioco originale Sarà molto molto più divertente Quindi ditemi nei commenti se volete vedere dei video di Rainbow Six potrei... Si compra? Non so se è in grati No, penso che si compri Le meccaniche di movimento di Roblox purtroppo non sono le migliori Quindi a volte mi blocco eccetera Uh, qua c'è uno, aspettate Guardate, 3, 2, 1, boom! Gli salta la testa in aria No, non salirai qua su Gli ho fatto un no scope headshot bellissimo Ok, ci prendiamo le sue medagliette E adesso... Uh, guardate quell'altro L'ho preso, sì l'ho ucciso! L'ho preso di wallbang Ok, ok, stiamo allerta Ci potrebbero essere nemici ovunque Tipo quello là Che abbiamo appena ucciso E abbiamo sbloccato un R2 supporter Che non so cosa sia Però l'abbiamo sbloccato 17 uccisioni 10 morti Ok, non è andata proprio benissimo Ma adesso ne andiamo a fare un'altra Sperando che sia una mappa che più o meno conosco Così magari riesco a fare anche tante più uccisioni Nel frattempo, vediamo un attimino Ho sbloccato qualcosa per caso? No, non ho sbloccato assolutamente niente Però qua ci stanno delle altre armi Che non posso ancora utilizzare Tipo la carabina No, 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 no Io voglio continuare ad utilizzare questo Voglio assolutamente lo sniper Mi diverte veramente tantissimo Ok, questa è una di quelle mappe Cattura il punto Come vedete Dobbiamo catturare questa montagnetta E dobbiamo anche cercare di capire Dove si trovano i nemici Perché non ne vedo neanche uno Guarda quello Ma cosa stava facendo? Ok, gli abbiamo fatto un headshot C'è qualcun altro qua però Da qualche pa... Ecco lui Anche lui si è preso un bel headshot Come ha fatto a non morire? Ok, un altro headshot Non mi vedo, non mi sa Non so dove sono A livello 12 posso sbloccare questo? Oppure costa 1680 Siccome io non ho tutti quei soldi Continuo ad utilizzare il cecchino iniziale Oddio, e tu cosa vuoi da me? Vai via Wow, che headshot C'è qualcun altro? No, così sono tutti i compagnetti Ho preso Wow, che è successo? Ho fatto una collaterale Ne ho uccisi due con un colpo solo E credo di averli uccisi anche Sì, le ho uccisi tutte e due con headshot da lontanissimo Wow Che colpo Niente ragazzi, c'è poco da fare Non date un cecchino in mano a Candy Perché sennò vi combina queste cose Ne ho ucciso un altro Ok, dobbiamo un attimino rigenerare la vita adesso Perché siamo mezzi morti Là ci sta qualcuno Mi sparano Mi sparano dalla finestra Oh no C'ho pochissima vita Dobbiamo scappare Allora, mi metto qua Fino a quando non rigenero tutto quanto al massimo C'è qualcuno No, 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 no Ok, l'abbiamo ucciso La mia vita è ancora bassissima Però adesso se non altro non siamo più rossi Voglio semplicemente dare un'occhiata fuori dalla finestra Così che mi assicuro che Non c'è nessuno sniper pronto ad ammazzarci Ok Stiamo a posto Possiamo tornare a combattermi, so Guardate quello là sotto Oddio se lo prendevo Oddio Eh ma è troppo lontano Sta a una distanza incredibile quello Guarda questo Oh, è morto C'è qualcuno qua su C'è un nemico qua sopra Non so come ci sia arrivato Oddio, ce n'erano tantissimi Ce n'erano tre Oh, eccone uno Morto Guardate quello Uh, headshot Mamma mia ragazzi Sono letale con questo cecchino Chi l'avrebbe mai detto? Uh, credo che questo sia un passaggio segreto Questo è tipo un nascondiglio per andare nella loro base Che figato Ho trovato un nascondiglio Però c'è qualcuno che sta arrivando Dov'è? Sta qua Ok, l'abbiamo ammazzato Perfetto Quello mi avrebbe potuto causare un bel po' di danni La ne vedo un altro No, se prendo L'ho preso Oh mio Dio Stavo dicendo no Se prendo quello è impossibile L'ho preso da 300 metri In wallbang Headshot Ok, quello è stato veramente un colpo Assurdo ragazzi Que... Non pensavo di essere così bravo col cecchino Ma evidentemente sì, lo sono Questo video merita almeno 2000 Mi piace per forza Guardate quest'altro Muori Ok, dove stanno gli altri? Quello là è un nemico? Quelli sono nemici? Quelli sono nemici Ok, meno uno Dai, vieni qua Non scappare È meno due È morto? Non è morto? Come fa ad essere ancora in vita? Ok, ora è morto Stavo per dire Infatti mi sembrava strano Guarda quanti nemici Mi sto divertendo veramente tantissimo Mi raccomando Lasciate un bel mi piace Se volete vedere degli altri video Col cecchino Chissà su Rainbow Six Invece come me la caverei Col cecchino Non so neanche Se ci sia il cecchino Sinceramente su quel gioco L'ho preso? Come ho fatto a non prenderlo? Ma quello è proprio fortunato comunque Ok, ora è morto Sono tantissimi Oddio Ok No, dai Cosa? Pensavo di averlo ucciso uno Allora Saliamo Saliamo qua sulla scala Dov'è? Eccolo Quello brucia Quello brucia tantissimo Guardate Là ce n'è un altro Quello è morto Eh no No, non era morto Era vivo Oddio Ok, l'ho preso Quell'altro l'ho preso pure No, non l'ho preso L'ho mancato Ora ti prendo però Non puoi scappare per sempre Amico mio Ok, è morto Ancora vivo è Vuoi morire? Ecco, finalmente La c'è un altro Là sotto Lo vedete? Allora Ammazziamo di nuovo tutti quanti Là ci sta uno Headshot Ciao ciao Qua c'è un altro Headshot Ciao ciao E là un altro ancora Oddio L'ho preso con headshot Attraverso il muro Tra l'altro Che figata Questa mappa Non mi piace molto Perché c'è troppa gente Camperata sui tetti Però Sto facendo proprio Una bella partita Per quanto riguarda Le kill spettacolari Guarda quello Quello là L'ho preso No, no, no Ora ti piglio Ora ti piglio 3, 2, 1 E ho fatto un assist Quindi l'avevo preso Abbiamo perso Però non importa Perché abbiamo fatto Veramente Una bellissima partita Mamma mia Mi raccomando ragazzi Lasciate un bel Mi piace Se vi è piaciuto Questo video Con delle cecchinate Veramente spettacolari Io adesso sicuramente Giocherò un altro poco Perché voglio Sbloccare altre armi Dal vostro Candy è tutto Noi ci vediamo Sicuramente In un prossimo video Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti